Ciao ben ritrovato! Oggi sono in macchina, il viaggio sarà un po' lungo perché sto andando al sud passerò per Roma, per Latina, per Anola e infine andò a trovare dei partner, persone molto preparate a Benevento! Oggi ti faccio cadere un mito del fatto che al sud non ci vuole la pompa di calore e che qualsiasi cosa funziona per riscaldare e invece no, con i miei colleghi ti porterò a Benevento dove le temperature basse d'inverno e dove l'umidità molto alta potrebbero creare problemi alle pompe di calore e quindi ti mostrerò come si lavora in maniera professionale e qual è il giusto approccio per affrontare certi tipi di abitazioni che possono essere anche poco isolate, che hanno bisogno di temperature alte per riscaldare casa in un clima particolare al sud Italia Anche qui al sud abbiamo dei partner che lavorano molto bene abbiamo fatto un percorso di crescita assieme e adesso ti mostrerò i risultati A farmi compagnia in questo viaggio c'è Aless che ti saluta Ciao! Bene dai, allora andiamo in cantiere e ci vediamo lì! Ciao, eccoci qua a Benevento dove abbiamo appena fatto il collaudo di una pompa di calore ad alta temperatura da 23 kilowatt infatti vedi l'importanza della macchina è una pompa di calore per un impianto a fan coil in un territorio piuttosto freddo perché qui d'inverno andiamo molto giù di temperatura ma grazie ai nostri partner che lavorano nel territorio hanno realizzato veramente un impianto alla regola dell'arte ecco qui dietro abbiamo la casa, una casa da oltre 350 metri quadri in sasso e riscaldata e raffrescata con fan coil adesso ti porto in centrale termica per mostrarti effettivamente il cuore del sistema Ciao, allora sono qui come promesso con Antonio sono qui con Antonio c'è anche l'elettricista fuori che si chiama Antonio quindi qui a Benevento tutti si chiamano Antonio il primo Antonio ti presenterà come è stato realizzato l'impianto quali erano le problematiche che aveva il cliente prima di passare alla pompa di calore e quali sono i vantaggi adesso di passare a una fonte completamente rinnovabile utilizzando anche il suo fotovoltaico è una villa da 350 metri quadrati con impianto a fan coil sia per il riscaldamento che anche per il raffrescamento estivo questa mattina abbiamo collaudato un impianto di riscaldamento in una villa unifamiliare di circa 350 metri quadrati con costruzione in pietra una riqualificazione di una villa importante risalente ai primi anni del Novecento siamo in provincia di Benevento nel comune di Cerreto Sanita il cliente ci ha chiamato per una riqualificazione dell'impianto termico che attualmente comprendeva una caldaia da 25 kilowatt con produzione di acqua calda sanitaria a condensazione c'era un ulteriore caldaia da 30 kilowatt che in effetti sopperiva per i picchi dell'impianto termico in più c'era una caldaia biomassa ancora installata sull'impianto di circa 40 kilowatt e aveva un refrigeratore nel periodo estivo sulla caldaia biomassa, sul boiler era stata comunque integrata un impianto solare termico noi con l'ausilio della mia azienda che è la Catalano SRL con la Silvia Cener Trento con Antonio Maddalena di Impianti e Servizi con cui collaboriamo da anni e con la progettazione dell'Incineria Annae abbiamo riqualificato l'intero impianto come vedete questo è un particolare della parte della centrale termica la pompa è all'esterno dove abbiamo un boiler per l'acqua calda sanitaria da 500 litri con un'integrazione per quanto riguarda il solare accanto invece abbiamo il puffer per l'acqua tecnica da 400 litri e abbiamo quattro spillamenti per le quattro zone dell'impianto perché la villa è su due livelli e ogni livello è diviso in due zone quindi abbiamo zona giorno 1 e 2 zona notte 1 e 2 un impianto importante un impianto che stamattina abbiamo attivato ci auguriamo di dare al cliente sicuramente una serenità di funzionamento e allo stesso tempo non avrà più problemi per il futuro e potrà godersi finalmente il benessere della villa che è di sua proprietà ovviamente la pompa di calore evita la pulizia della caldaia a biomassa con il caricamento dei sacchi con i vari inceppamenti con le varie regolazioni che si susseguivano e inoltre con la pompa di calore tutto il sistema che abbiamo creato è totalmente accessibile e remoto sia il controllo delle temperature interne sia il controllo delle temperature esterne sia il funzionamento delle varie apparetchiature quindi sappiamo in qualsiasi momento la macchina se sta producendo acqua calda sanitaria o sta producendo per riscaldamento quali sono gli spillamenti e le condizioni di parametri di funzionamento della pompa di calore esterna e del compressore e quando gli arriverà in bolletta quindi lui saprà già preventivamente quando sarà il conto che lui avrà da parte del fornitore di energia qua abbiamo il cuore dell'impianto la centralina che controlla istantaneamente tutti i parametri di funzionalità della pompa di calore e della centrale termica e dell'ambiente quindi questo è un grande vantaggio rieccoci allora in macchina verso casa anche questa è andata una bella esperienza delle belle persone e dei bravi professionisti allora seguimi nei prossimi video dove ti porterò in altre zone d'italia ti farò conoscere altri colleghi professionisti che utilizzano soluzioni professionali per riscaldare case in maniera intelligente allora se non l'hai ancora fatto clicca sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco e ci vediamo nei prossimi video